Buonasera e bentrovati per questo appuntamento che ormai è un po' una tradizione del nostro programma, l'incontro di presentazione dedicato proprio al mondo della scuola e a voi insegnanti della prima grande mostra della stagione invernale e oggi siamo qui per presentare la mostra Michelangelo Divino Artista, una mostra che consente di ripercorrere tutte le fasi della vita e dell'opera di questo straordinario artista di tutti i tempi. Naturalmente avevamo immaginato un incontro diverso, un incontro in presenza, anzi speravamo di poter fare questo incontro in presenza in modo tale da potervi ritrovare dopo tanti mesi. Naturalmente questo non è stato possibile e in corsa ieri abbiamo deciso di convertirlo in un incontro online e sono molto lieta che siate collegati in molti e che moltissimi fossero collegati anche al turno delle tre e mezzo. Naturalmente questo è stato possibile proprio perché un po' tutta la macchina di Palazzo Ducale si è mossa per rendere l'avvenimento comunque concreto e quindi non solo naturalmente i servizi educativi di Palazzo Ducale ma anche i servizi multimediali, l'ufficio tecnico, i servizi tecnici e l'ufficio eventi che hanno appunto contribuito a creare questa nuova occasione di incontro anche se in remoto. Ecco naturalmente quello che si può fare a distanza l'avete verificato in tutti questi mesi non è proprio la stessa cosa degli incontri, delle elezioni in presenza abbiamo perfettamente presente quelle che sono state le criticità e che saranno ancora le criticità nelle settimane e nei mesi futuri. Quindi a parte il fatto di esprimere tutta la nostra grande solidarietà vorrei proprio offrirvi anche tutto quello che può essere il supporto di Palazzo Ducale per continuare a fare scuola anche in questi momenti difficili. D'altra parte quello che abbiamo pensato è cercare di minimizzare al massimo le criticità della distanza e valorizzare invece le opportunità che ci offre il digitale e che ci consente appunto anche oggi in qualche modo di non venire meno ad un appuntamento così importante della nostra programmazione. Ecco mi preme comunque sottolineare che soprattutto perché parleremo appunto di una mostra che quello che è la ricchezza di un rapporto diretto tra le persone, un rapporto diretto con l'arte non può chiaramente essere comparato con quella che è la fruizione online. Quindi io mi auguro che poi venga voglia di venire a vedere direttamente questa mostra. So che le uscite didattiche in questo momento sono sospese. Mi auguro che naturalmente dopo il 13 di novembre si possano riprendere anche se obiettivamente la situazione in questo momento non è così incoraggiante. In ogni caso spero che sia possibile anche a titolo individuale, anche per gli studenti, venire poi a vedere la mostra. In ogni caso quello che stiamo cercando di fare su tutto il nostro programma è trovare delle soluzioni appunto online, a distanza, che naturalmente vengano ripensate. Cioè è ovvio che non basta filmare un'attività che era stata presista in presenza e metterla online. Non è proprio la stessa cosa. Bisogna immaginarla, immaginarla online, pensarla online, progettarla online. E quello è quello che cercheremo di fare anche a proposito delle mosse, anche a proposito dei laboratori e delle visite guidate in mostra. Perché ci sarà anche la possibilità appunto di fruire di visite guidate in mostra. Avranno tempistiche e, come dicevo, modalità diverse da quelle in presenza, ovviamente. Anche prezzi, in realtà, dovevo rivedere un po' tutta la programmazione in generale. Però in realtà, per quanto riguarda il programma in generale, il programma che in realtà quest'anno non avete ricevuto cartaceo, il programma imparate che ogni anno vi arriva a casa verso la fine di agosto, quest'anno l'abbiamo veicolato principalmente in digitale, sia per ragioni di risparmio, sia anche per un discorso di sostenibilità ambientale. Meno carta, meno stampa. Anche se ne abbiamo stampato un certo numero di copie che eventualmente sono a disposizione, in versione appunto concreta, cartacea, qui a Palazzo Ducale per chi desiderasse venissero a prendere. Tra l'altro, ecco, approfitto, perché è una cosa a cui tenevo molto, per richiamare la vostra attenzione sulla copertina di questa pubblicazione, questa installazione di Liliana Porter. Noi sempre sulle copertine di Impararte inseriamo un'installazione di un'artista contemporanea. Questa appunto è un'artista americana che ha inserito, con questa donnina, che con un'attività artigianale è molto, molto semplice, sta in realtà costruendo un grande tessuto di fiori. Ecco, diciamo, mi faceva piacere richiamare l'attenzione su questo perché è un po' uno dei messaggi che volevamo dare, anche un po' in generale con la nostra, con tutte le nostre attività. Richiamare l'attenzione sull'impegno e sulla responsabilità che ognuno di noi ha in questo momento e che quindi è importante trasferire anche ai ragazzi perché ognuno di noi, anche nel suo piccolo, con l'impegno e appunto con la responsabilità e anche con un certo spirito comunque creativo, può fare qualcosa di grande. E quindi, diciamo, questo è un messaggio che ci tenevamo veramente molto a dare. Per quanto riguarda il programma, comunque, diciamo che è rimasto abbastanza invariato rispetto alla coppia comunque che abbiamo, cioè il programma che avevamo definito alla fine di luglio. Cioè i contenuti sono rimasti assolutamente gli stessi, l'ampio spettro degli argomenti, sempre un po' a 360 gradi, spaziano dall'arte alla letteratura, alla storia, ma anche a tutto l'ambito scientifico, quindi la matematica, l'economia, la tecnologia, le scienze, con la collaborazione tra l'altro di istituzioni assolutamente di altissimo profilo a livello nazionale, come il CNR, l'università, l'IT, l'Accademia dei Lincei, il Centro Studi Montessori. Quindi, diciamo, ovviamente come sempre ci siamo avvalsi della collaborazione di moltissime realtà che, come noi, si occupano di educazione. Abbiamo dato moltissimo spazio alla formazione docenti e manterremo i quasi 20 corsi che abbiamo appunto messo in programma e che, come dicevo, spaziano un po' in tutti gli ambiti disciplinari, realizzandoli in parte quando sarà possibile e indispensabile per le caratteristiche del corso, cercando di mantenere la versione in presenza, ma per lo più trasferendoli anche quelli sull'online, cosa che ovviamente comporta degli innegabili difetti, ma che ci consente comunque anche di raggiungere un pubblico di insegnanti che magari fisicamente non avrebbe mai avuto la possibilità di essere qui a Palazzo Ducale affluire dei corsi in presenza. Quindi, diciamo, cerchiamo di almeno vedere uno dei possibili lati positivi. Ecco, mi preme ancora, come ultima cosa, richiamare la vostra attenzione su una parte del programma a cui teniamo moltissimo e che è una novità di quest'anno, a cui abbiamo pensato proprio durante il lockdown. Il programma Cittadini in Costruzione, che prende spunto dai temi dell'Agenda 2030, dell'Agenda ONU per lo sviluppo sostenibile, con i 17 obiettivi appunto di sviluppo sostenibile, in qualche modo correlati anche con la legge che ha recentemente reintrodotto l'insegnamento scolastico e dell'educazione civica, che ci sembrano due grandi ambiti di interesse, che poi assolutamente intrecciati l'uno con l'altro, di attualità assoluta. Ecco, mai come in questo momento credo si senta l'esigenza di sostenere, di sviluppare, e di incoraggiare una coscienza critica e civica da parte di tutti, di tutti noi, ma ovviamente in particolare e soprattutto delle giovani generazioni. Ecco, quindi abbiamo realizzato una serie di laboratori, soprattutto dedicate ad alcuni temi come la legalità, il rispetto per l'ambiente e il patrimonio culturale, i beni pubblici comuni, che appunto verranno declinati in laboratori. Anche questi, in parte, sarà possibile fruirne online. Una parte di questo grande programma, il progetto CIT, non solo a scuola, in realtà è un progetto che è stato realizzato in collaborazione con l'Ufficio Scolastico Regionale e ci fa piacere annunciare che è stato sostenuto e finanziato da Regione Liguria, quindi sarà disponibile anche a titolo gratuito per alcune classi. Direi che adesso possiamo passare alla presentazione della mossa. No, mi preme, scusate, ancora un'ultimissima cosa, perché in qualche modo dà un senso anche a questa nostra attività, a questo nostro grosso sforzo di riconversione delle attività sull'online. Nel mese di aprile noi abbiamo realizzato un questionario, un sondaggio, attraverso gli studenti di tutte e quattro le province Liguri. Hanno partecipato oltre 2.000 studenti di tutte le fasce di età e tra i quesiti c'era proprio una domanda relativa al tipo di scuola che avrebbero desiderato, nel momento in cui fosse stato possibile rientrare in auta, quella che sarebbe stata il loro desiderio di una scuola del futuro. E oltre un quarto degli intervistati ha espresso il desiderio di trovare meno ore di lezione frontale e più attività di laboratorio. Questo ovviamente ci conforta molto in tutta quella che è stata la linea di indirizzo delle nostre attività educative in tutti questi anni. Ma poi abbiamo cercato comunque anche in quegli stessi mesi di metterla in pratica, quindi in realtà abbiamo già realizzato, e anche questo mi fa piacere sottolinearlo, per tutte le diverse fasce di età, a partire dai bambini più piccoli, fino ovviamente agli studenti delle secondarie di secondo grado, per i quali sembra più normale, ma in realtà noi abbiamo fatto questa sperimentazione veramente ad ampio spettro, e i risultati dei laboratori condotti online, molto interlocutori, a volte condotti con piccoli gruppi, sono stati comunque molto molto incoraggianti. Quindi diciamo si possono fare laboratori anche a distanza online. Ovviamente bisogna pensarli apposta. Ecco, adesso io non vi rubo ulteriore tempo, perché vi lascio alla presentazione della mostra che la curatrice Cristina Acidini ha registrato per noi questa mattina, e che veramente propone una lettura molto chiara, molto esaustiva, e molto efficace della mostra, delle scelte che sono state fatte per la mostra, ma proprio di tutta la figura di Michelangelo e del suo inserimento nel contesto storico in cui lui è vissuto, e vissuto anche tra l'altro così a lungo. Ecco, vi lascio alla curatrice. La mostra Michelangelo Divino Artista, che si svolge al Palazzo Ducale di Genova, rappresenta un'opportunità davvero eccezionale per ammirare dal vero e da vicino una serie di opere di Michelangelo Buonarroti, che non lasciano quasi mai la loro sede naturale, che è la Casa Buonarroti a Firenze, dove si raccolgono opere e memorie del grande artista e della sua famiglia. Il percorso prescelto per l'esposizione segue lo svolgimento biografico della vicenda terrena di Michelangelo, vale a dire quella sua lunga vita, davvero eccezionale per l'epoca, durata dal 1475 al 1564, quindi 89 anni, quasi 90. Dunque, in questa sua lunga esperienza, Michelangelo non soltanto creò dei capolavori, ma ebbe anche delle opportunità di incontro e di conoscenza diretta con i grandi personaggi della sua epoca. La mostra nel seguire il fil rouge delle opere michelangelesche, e come vedrete sono presenti non solamente una serie straordinaria di disegni, ma anche sculture di sua mano, lo accompagna con le immagini, i documenti, le testimonianze delle persone che lui incontrò, con le quali a volte si scontrò e che anche amò profondamente come i familiari e gli amici. E appunto dalla famiglia comincia l'esposizione, dalle origini di quella famiglia Bonarroti, che secondo Michelangelo, che qui vediamo in un ritratto di Giuliano Bugiardini, avevano radici nobili e antiche. Si tratta infatti di una famiglia che poteva far risalire le proprie origini a Matilde di Canossa. Nella prima sezione, delle dieci che compongono il percorso espositivo, abbiamo presentato attraverso alcuni documenti e immagini la personalità di Michelangelo, Michelangelo ufficiale, ma anche Michelangelo domestico, casalingo si vorrebbe dire. Questo disegno rappresenta infatti una sorta di lista della spesa per comporre tre menu di diversa importanza, da quello più semplice a quello più complesso, sono generi alimentari, pesci, pane, vino, che vengono non solo elencati, ma addirittura illustrati dalla sua mano. Altre documentazioni ci rimandano appunto alla sua rete di rapporti familiari o professionali. E proprio sempre dagli archivi di Casa Bonarroti vengono dei documenti commoventi come le lettere al padre, ai fratelli, lettere nelle quali vengono scambiate notizie di carattere personale e familiare, ma anche a volte commenti sulla situazione politica che, ricordiamo, negli anni della gioventù di Michelangelo a Firenze, era particolarmente turbolenta e piena di incertezze. Il padre Ludovico, un modesto funzionario della Repubblica Fiorentina, era contrario all'ingresso di Michelangelo nell'apprendistato artistico. Avrebbe voluto il figlio letterato, forse avvocato, notaio, insomma avrebbe voluto che avesse a che fare con un mestiere più nobile come quello delle lettere. Ma Michelangelo seguì la sua vocazione artistica, imparò la pittura e poi la scultura e poi sappiamo quanta strada fece. Queste lettere appunto vengono dalla corrispondenza privata di Michelangelo ed escono assai raramente, come tutto il resto, dalla casa Buonarroti. Nella sua adolescenza Michelangelo fece un incontro straordinario, Lorenzo il Magnifico. incontrò colui che era il mecenate delle arti, il conoscitore degli artisti e anche il signore occulto di Firenze. Il regime repubblicano infatti non impediva che fosse lui a tirare le fila della politica nazionale e internazionale della città-stato di Firenze. In questo bel busto di terracotta policroma lo vediamo in una delle sue immagini abituali con il vestiario che ben conosciamo e l'espressione assorta e severa. Michelangelo fu vicino a Lorenzo il Magnifico in anni molto formativi, tra i 15 e i 17 anni, erano gli anni 90, e Lorenzo purtroppo sarebbe venuto a mancare nel 1492. Quindi per pochi anni, ma molto intensi, Michelangelo frequentò il giardino di San Marco, dove si svolgeva il tirocinio dei giovani artisti, ma anche la casa, il palazzo dei Medici in Via Larga e poter conoscere gli artefici della cultura umanistica della cerchia laurentiana. Parliamo di Agnolo Poliziano, di cui qui era esposto un bellissimo incunabolo con le stanze per la giostra di Giuliano De Medici. Poter conoscere gli umanisti, Marsilio Ficino e altri. E attraverso le frequentazioni degli artisti vicino al Magnifico imparare intanto il disegno, che è il fondamento di tutte le arti, copiare e conoscere da vicino le antichità raccolte e tesaurizzate da Lorenzo e prima ancora da suo padre e da suo nonno e farsi instradare verso la scultura da un maestro importantissimo, Bertoldo di Giovanni, che era stato l'ultimo assistente e allievo di Donatello, il grande scultore della prima metà del Quattrocento a Firenze. Qui in questo arazzo cinquecentesco lo vediamo Lorenzo, proprio sotto il loggiato del giardino, attorniato dagli artisti che gli mostrano i suoi lavori. Bertoldo era l'autore di varie opere in bronzo, ma anche di questo straordinario fregio, di cui in mostra troviamo un segmento particolarmente prezioso, un fregio che abbelliva, con la storia dell'anima e dei suoi diversi destini, niente di meno che il frontone della villa di Lorenzo a Magnifico, architettata da Giuliano da Sangallo, appoggio a Caiano. Altri elementi di studio per Michelangelo e per i suoi giovani coetanei furono le antichità, qui vediamo un busto imperiale, oppure altri veicoli, per così dire, della passione crescente dell'antico, le gemme. Lorenzo ne aveva una ricchissima collezione, qui tre esemplari sono rappresentati e, benché si tratti di capolavori di minuscola dimensione, sono stati fonte di ispirazione per tutta la generazione degli artisti di quel tempo. Ed eccoci alla prima prova di Michelangelo, almeno la prima che ci sia rimasta, la scultura in marmo, detta la Madonna della Scala, che rappresenta quasi il suo omaggio al maestro ideale a distanza, appunto Donatello. Da Donatello viene quella sapienza nel trattare i rilievi sottilissimi con la tecnica detta dello stiacciato, ma è tutta di Michelangelo l'originalità dell'invenzione che ci mostra la Madonna seduta di profilo, con lo sguardo assorto lontano, mentre forse allatta il suo piccolo, Gesù Bambino, che ci volta le spalle ed ha la corporatura di un piccolo Ercole ignudo, un soggetto tenero e misterioso al tempo stesso. Ed è, ripeto, l'opera di un adolescente, dobbiamo pensare, che aveva circa 16 anni quando la scolpì nel giardino di San Marco. Un altro personaggio che Michelangelo abbia occasione forse non di conoscere, ma certo di ascoltare, è il fervente predicatore fra Girolamo Savonarola, domenicano appunto martire perché scomunicato e arso sul rogo per le sue istanze riformatrici, le cui prediche Michelangelo ancora in tarda età sentiva risuonare nella memoria. Altri personaggi della Firenze del Tempo, Lorenzo di Pierfrancesco de' Medici, cugino più giovane di Lorenzo il Magnifico, che fu a sua volta importante e influente nel destino di Michelangelo. E infine un Medici che lui non aveva in particolare stima né simpatia, quel Piero di Lorenzo de' Medici, detto Piero il Fatuo, che provocò col suo comportamento la cacciata della famiglia da Firenze alla calata dell'esercito francese di Carlo VIII nel 1494. I Medici furono esiliati per vent'anni, Michelangelo incominciò una sua carriera priva di protezioni e contrassegnata da viaggi e da incertezze. Eccolo infatti che fugge a Bologna, poco prima che i Medici venissero cacciati, forse per la consapevolezza che le disgrazie della famiglia incombevano. Fugge a Bologna e la sua fama però di giovane promettente scultore evidentemente lo accompagna e ottiene un incarico prestigiosissimo completare con tre figure di marmo quella arca di San Domenico nella chiesa di San Domenico che era stata incominciata da Niccolò da Puglia detto appunto Niccolò dell'arca ma siccome l'anziano maestro era venuto a mancare fu Michelangelo che intraprese il completamento di questo apparato di cui Bologna va tuttora orgogliosa. Scolpì un angelo del quale c'è qui una copia fedele in mostra ma il destino lo aspettava altrove. Tornato a Firenze dopo il viaggio a Bologna ricadde per così dire sotto l'ombra dei Medici e fu quel Lorenzo il Popolano cugino del Magnifico a dargli un consiglio un po' particolare quello di spacciare per antica una sculturina che aveva realizzato in marmo ispirandosi ad un amorino dormiente di età romana. Quell'amorino dormiente falso falso antico fece la sua strada fino al Cardinal Riario a Roma ma il Cardinal Riario perché il mondo era piccolo e pettegolo anche allora seppe quasi subito che si trattava di un falso rivolle i suoi soldi ma volle conoscere quell'artista pieno di talento che aveva falsificato il marmo antico e così lo chiamò a Roma e gli fece fare un bacco quel bacco di cui abbiamo in mostra un bellissimo calco e che rappresentò per Michelangelo un'esperienza nuova un ingresso cioè in una scultura di proporzioni monumentali ispirata all'antico che certamente risentiva delle suggestioni della statuaria romana tutto intorno a lui. Il viaggio a Roma nel 1495 deve essere stato un'esperienza straordinaria e proprio al culmine di questo suo soggiorno a Roma per il cardinale francese Jean-Biard de la Yaglola scolpisce la pietà. Il suo primo capolavoro esposto al pubblico in una cappella adiacente alla Basilica di San Pietro è il mausoleo dei re francesi dedicato a Santa Petronille e al centro viene esposta nell'anno del Giubileo 1500 questo gruppo strepitoso monolitico in cui secondo l'iconografia tipicamente nordica del Vesper Build viene raffigurato il momento in cui la Madonna prende sulle ginocchia come se fosse tornato bambino il figlio morto appena deposto dalla croce. È un capolavoro di finezza di integrità di maestà ed è l'unica opera firmata da Michelangelo Buonarroti qui in mostra ne abbiamo una bellissima copia. Naturalmente non si può non evocare la maestà di Roma attraverso le grandi statue che potevano essere allora viste i Dioscoli sul Quirinale la statua monumentale del Nilo il Laocoonte pensate che il Laocoonte venne alla luce nel gennaio del 1506 e sul bordo di quello scavo da cui emergeva la statua più straordinaria dell'antichità che aveva stata ricordata da Plinio il Vecchio nella sua storia naturale c'era Michelangelo che il Sangallo l'architetto Sangallo aveva chiamato dei Gran Corsa dicendogli che qualcosa di straordinario emergeva da una vigna romana. Dunque sono gli anni in cui la statuaria antica incomincia veramente a modellare e influenzare l'arte del pieno 500 e poi le architetture celebri come quella del Pantheon che è stata d'ispirazione a generazione di architetti. Da questa esperienza vengono anche alcuni disegni qui vediamo un disegno originale di Michelangelo con una studio di Venere antica vista di spalle e altri disegni d'architettura pure qui esposti. Ma non doveva restare poi troppo a lungo a Roma Michelangelo perché ebbe intorno al 1500 un avvertimento da certi amici così raccontano i biografi che l'opera del Duomo che possedeva un vecchio e malandato pezzo di marmo molto grande stava per affidarlo a Leonardo da Vinci che era tornato da Milano dopo esserci stato per vent'anni. Michelangelo voleva quel blocco. Tornò a Firenze e lavorando forse di concerto anche con il gonfaloniere perpetuo che reggeva la Repubblica Pier Soderini qui raffigurato ottenne quel marmo e da quel marmo sarebbe uscito il Davide. Ma ben altro aveva in mente il Soderini per lui voleva che affrescasse in Palazzo Vecchio un episodio della storia fiorentina della gloriosa storia militare fiorentina la battaglia di Cascina e sarebbe stata un pandan della battaglia di Anghiari altra vittoria della Repubblica che era già stata affidata a Leonardo da Vinci. I due grandi rivali l'anziano e il giovane emergente si trovavano a lavorare gomito a gomito in Palazzo Vecchio. Sappiamo che l'impresa andò male nessuno dei due dipinse quello che il gonfaloniere si aspettava ma rimasero straordinari studi e disegni e tra questi quegli arrampicatori che escono dal fiume perché Michelangelo scelse di rappresentare il momento in cui l'esercito fiorentino si sta prendendo una pausa è luglio fa caldo i soldati fanno il bagno in arno ed ecco che vengono richiamati alle armi dall'assalto dei nemici allora si rivestono in fretta e furia e corrono alle armi ed ecco che appunto questi arrampicatori che escono velocemente e con fatica dall'acqua offrono a Michelangelo l'opportunità di rappresentare il corpo umano maschile nudo in ogni suo scorcio e atteggiamento sotto la pressione dell'urgenza e della fatica ma c'è un'altra opera che caratterizza il periodo fiorentino il Tondo Doni quella bellissima sacra famiglia di formato circolare che Michelangelo dipise per il mercante Agnolo Doni che tirò sul prezzo ma poi finì per accettare la richiesta di Michelangelo questa testa bellissimo disegno a sanguigna è qui appunto esposta ed è uno studio per la Madonna che guarda affascinata e quasi in estasi il figlioletto che issa sulla sua spalla per la figura invece del bambino nel Tondo Doni una figura robusta muscolosa ecco uno studio di gamba poderoso fatto a penna da Michelangelo ben presto però dovette di nuovo lasciare Firenze e mettersi al servizio di Giulio II un papa terribile un papa guerriero al secolo Giuliano della Rovere originario di Savona che sulle orme dello zio papa Sisto IV aveva una potente corte e una forte presenza non solo a Roma ma in tutta la penisola perché appunto guidò la lega degli stati a lui alleati e fedeli in lotte e in testine e si mise lui stesso alla testa degli eserciti era un papa con il quale Michelangelo ebbe un rapporto straordinario gli ordinò la sua tomba gli ordinò la volta della Cappella Sistina ma anche conflittuale perché come è raccontato nel noto romanzo il tormento e l'estasi poteva anche essere severo e aggressivo nei suoi confronti qui lo vediamo in un ritratto che viene dall'originale bellissimo di Raffaello Sanzi è una bellissima copia di origine medicia e lo vediamo nella sua vecchiaia riflessiva quasi mesta e solitaria ma in realtà appunto il suo carattere fu molto deciso e autoritario per lui Michelangelo fu costretto a intraprendere l'arte dell'affresco arte che sentiva estranea se preferiva di gran lunga la scultura ma il papa lo costrinse ad affrescare la lunghissima volta della Cappella Sistina impresa che si svolge tra il 1508 e il 1512 e che ci ha lasciato un capolavoro che ha cambiato letteralmente la storia della pittura in Casa Bonarroti alcuni studi sono appunto dedicati alle scene della Cappella qui abbiamo uno studio di braccio e di mano che si riferisce alla figura di Adamo cacciato dal paradiso terrestre vediamo come a Michelangelo interessasse questo gesto di spavento e di protezione di sé che il Adamo peccatore mette in scena quando viene allontanato dal paradiso terrestre mentre ancora per una delle figure della Cappella Sistina è questo volto virile pensoso chinato in avanti e sorprende sempre in un disegno come questo e altri la piccola dimensione qui abbiamo a che fare con un foglio di 11 cm per 6 un foglietto e tuttavia vi è rappresentata in tutta la sua esplosiva potenza la figura di uno degli ignudi 24 bellissimi atletici giovani che tengono festoni e medaglioni intervallando le scene della volta e questa è una caratteristica che invito a osservare in altri disegni anche d'architettura come grazie al suo governo delle proporzioni e del progetto mentale espresso attraverso il disegno Michelangelo potesse in un foglio minuscolo immaginare qualcosa di grandioso una figura o un'architettura molto interessanti i disegni dei blocchi cavati sotto la sua sorveglianza per le statue che dovevano costituire il monumento sepolcrale di Giulio II in ognuno già Michelangelo si immaginava di cavare una figura o un membro architettonico sono tutti appunti di sua mano da quei blocchi sarebbero uscite statue straordinarie gli schiavi del Louvre e i prigioni della Galleria dell'Accademia poi non utilizzate di fatto per la tomba che andò prendendo forme e proporzioni sempre più ridotte quello che si erano immaginati insieme Giulio II e Michelangelo era un trionfo di scultura un mausoleo gremito da una folla di statue in realtà morto Giulio II il progetto fu ridotto a più riprese furono stipulati vari contratti la vicenda durò 40 anni e Michelangelo la definì la tragedia della sepoltura per i rapporti difficili che aveva con gli eredi della Rovere fino ad arrivare a questa conclusione il monumento che fu effettivamente montato in San Pietro in vincoli a Roma dove ci sono molte meno statue di quelle che lui aveva progettato ma c'è lo straordinario Mosè al centro che qui in mostra abbiamo evocato con una foto del maestro Aurelio Amendola che esprime appieno tutta la potenza di questa figura di profeta e di condottiero in cui certamente Giulio II si identificava dopo Giulio II un altro Papa guida il percorso di Roma verso una nuova splendore verso una nuova grandezza all'insegna del sogno ricorrente della rinnovazio imperi del rinnovo dei fasti della Roma imperiale ed è Leone X uno di quei due ragazzini medici che aveva incontrato quando era adolescente sotto l'ombra di Lorenzo il Magnifico e per loro lavorerà a imprese grandiose però questo non impediva a Michelangelo di dedicarsi anche ad altre richieste ed è per Metello Vari è un gruppo di gentiluomini romani che intraprende la scultura di un Cristo risorto dedicata alla chiesa di Santa Maria sopra Minerva a Roma c'è un imprevisto un intoppo che può capitare a chi scolpisce il marmo il marmo rivela una vena nel volto e Michelangelo un po' ci lavora attorno e poi pur avendo già sbozzato l'intera figura l'abbandona prende un nuovo pezzo di marmo e realizza quello che conosciamo appunto come il Cristo della Minerva ma regala la statua soltanto abbozzata a Metello Vari ed eccola qui passata di mano in mano arriva ai Giustiniani viene completata da uno scultore che non conosciamo e issata su un altare in una loro cappella bassano romano qui è stata ritrovata grazie agli studi è stata identificata e portata in mostra proprio come testimonianza di un lavoro intrapreso anche se non compiuto da Michelangelo per questi due papi Leone X e Clemente VII Michelangelo è chiamato a realizzare cose straordinarie anzitutto per Firenze la città dei due uno era papa Leone X l'altro era il suo cugino Cardinal Giulio che sarebbe divenuto Clemente VII ed è proprio il Cardinal Giulio che sorveglia le opere fiorentine di Michelangelo il progetto per la facciata di San Lorenzo contrattualizzato intrapreso Michelangelo va a cavare i marmi e sta solo mesi e mesi sulle apuane a far lavorare i cavatori quando il papa gli annulla il contratto la facciata non si farà però la sua delusione viene in qualche modo compensata poiché gli viene affidato l'incarico della cappella medici presso San Lorenzo ovvero Sagrestia Nuova dove troveranno posto le tombe di due giovani membri della Casa Medici Giuliano Duca di Nemur e Lorenzo Duca d'Urbino morti prematuramente non è solamente un monumento funebre gemino è un santuario della Casa Medici che vede lì approdare alla vita eterna ma mettere a rischio la continuità della dinastia i suoi giovani rampolli ed ecco che Michelangelo ancora una volta in disegni di piccolissimo formato studia questi apparati monumentali parietali straordinari che diventeranno le tombe dei due duchi e capitani con il tempo ai loro piedi il tempo che li ha consumati il tempo che loro dominano attraverso la fama e quel tempo è espresso da quattro straordinari figure il giorno e la notte l'aurora e il crepuscolo ecco ancora studi e disegni il studio per la cupola e perfino i profili dei modani cioè questi sono fogli di lavoro che Michelangelo consegnava ai capimastri perché scolpissero le varie componenti degli ordini architettonici secondo le sue istruzioni ci sono poi studi dedicati alle figure questa è una delle gambe probabilmente della giorno ed ecco che abbiamo deciso di esporre in forma di calco la notte la cui fama e bellezza furono i contemporanei stessi di Michelangelo a esaltare l'unica statua delle quattro che ha tutti gli attributi che le spettano il diadema con la luna le maschere dei sogni il barbagianni della notte e le capsule di papavero che inducono il sonno ma Michelangelo aveva ancora maggiori ambizioni se la sagrestia nuova oggi ci appare perfetta nella sua componenti di architettura e di scultura Michelangelo l'aveva immaginata ancora più grandiosa avrebbe voluto collocare ai piedi delle tombe dei due duchi e capitani quattro statue di dei fluviali che avrebbero probabilmente rappresentato i loro domini territoriali e qui in mostra vi è un modello di una statua reclina probabilmente uno di quei dei fluviali che gli scalpellini avrebbero dovuto sbozzare a grandezza naturale secondo i suoi ordini questa immagine così particolare rappresenta la culminazione della cupola della cappella dei medici o sagrestia nuova in San Lorenzo con una una sorta di palla che non è sferica però ma ha 60 facce è un solido regolare e sotto delle complementi decorativi alludono al leone leone ha a Firenze un significato duplice perché in quel contesto è il leone decimo ma è anche il leone marzocco che è l'animale totem della città disegni di capitelli sempre da dare agli scalpellini e disegni anche per altre parti perché in San Lorenzo non si limitò Michelangelo ad averli in carico per la sagrestia nuova fu anche richiesto di preparare attraverso i suoi disegni l'opera architettonica e gli arredi di un importantissimo ambiente la libreria oggi la chiamiamo biblioteca medicia laurenziana era la libreria dove i medici avrebbero fatto affluire il loro straordinario patrimonio di codici manoscritti e c'è ancora e Michelangelo architetta questa duplice architettura il salone e il ricetto vale a dire quel vestibolo dal colonne inalveolate monumentali e le grandi mensole che rappresenta tuttora un pezzo di architettura straordinaria è unico ma il Michelangelo non si limita all'architettura progetta l'arredo questo è il disegno dei banchi nei quali gli studiosi si sarebbero dovuti sedere e vedete che la misura d'uomo è garantita proprio dallo schizzo della figura a consultare i codici legati da catenelle alle loro basi che si chiamano plutei tutto l'insieme di questa struttura si chiama pluteo quindi consulta bellissima con prudenza il soggiorno fiorentino di Michelangelo si concluse drammaticamente la effimera repubblica fiorentina cadde riconquistata dal papa questa volta parliamo di Clemente VII sulle picche dell'esercito imperiale dopo il sacco di Roma siamo negli anni 1529-30 Michelangelo è a Firenze lavora alla cappella dei medici ma interrompe il suo lavoro perché a quel punto il papa è divenuto un nemico e sta per marciare su Firenze allora i dieci di balia con questo loro decreto qui esposto in originale nominano a Firenze governatore delle fortezze Michelangelo in persona Michelangelo non lo vorrebbe fare tenta la via della fuga ma viene ricondotto a Firenze e si assume questo incarico e da questa esperienza scaturiscono straordinari disegni di fortificazioni qui esposti nel frattempo però cerca anche di accontentare un altro potente italiano Alfonso I d'Este che ha conosciuto i suoi ponteggi della volta Sistina che si è invaghito della sua pittura e che vuole un quadro a tutti i costi allora Michelangelo in quel tempo un po' oscuro e sospeso glielo fa e gli fa la Leda una fantasia mitologica Leda la bellissima donna che accoglie nel suo grembo Giove in forma di cigno e genera quattro gemelli Castor e Polluce Elena e Clitennestra un episodio mitologico inquietante raffigurato anche da Leonardo da Vinci Michelangelo la immagina come un impossibile amplesso in cui Leda china la sua testa amorosa sul cigno in realtà lo studio che qui mostriamo di una bellezza straordinaria raffigura probabilmente un assistente un ragazzo con i capelli nascosti dalla cuffia che si presta a impersonale la bella protagonista del mito antico eccolo qui il mito nella versione offerta da un ignoto pittore copista che rappresenta la bella appunto col cigno a lei ha vinto e che si è spogliata dai suoi abiti vedete in basso c'è l'abito dalla bella manica che si è tolta ma a Firenze dopo l'effimera parentesi repubblicana ritornano i medici perché l'assedio si conclude con la sconfitta della città con la resa con il timore per Michelangelo di cadere nelle mani del papa che potrebbe compiere la sua vendetta ma in realtà per lui le cose si risolvono per il meglio il papa lo perdona e forse non tanto in nome dell'antica amicizia che le aveva legati fin dall'adolescenza ma in nome del suo proprio interesse ad avere la cappella medici a conclusa poiché l'aveva lasciata interrotta al tempo dell'assedio e Michelangelo riprende i lavori effettivamente dal 30 al 34 ma svogliatamente perché a Firenze domina un personaggio che lui non gradisce è Alessandro de' Medici un illegittimo di casa Medici che è salito al potere come primo duca di Firenze la Repubblica non c'è più è un regime tirannico al quale Michelangelo si sottrae si sottrae andando a Roma immaginiamolo che sbatte la porta della sagrestia nuova e non l'aprirà mai più va a Roma nel 1534 e lì rimane per altri 30 anni della sua operosa vita e carriera e non solo arrivato a Roma si lega con qualche rischio agli ambienti anti-medicei dei forusciti fiorentini che complottano continuamente per rientrare in città e per uno di loro scolpisce il Bruto che è il tirannicida per eccellenza colui che ha ucciso insieme con Cassio il tirano Cesare e infatti per questo Dante lo mette all'inferno masciullato da due delle tre bocche di Lucifero con questa scultura ispirata alla statuaria degli imperatori antichi Michelangelo si mette a rischio lui che è così prudente in politica nella cerchia anti-medicia si espone e forse non una ma due volte perché questo busto che esponiamo è una derivazione contemporanea dalla sua immagine di Bruto e quindi la circolazione della sua invenzione lo espone ai rischi della vendetta medicia che però non lo raggiungerà mai a farlo trasferire a Roma contribuirono anche degli amici perché gli amici oltre ai potenti e sovrani giocano un ruolo importante nella vita di Michelangelo la sua famiglia anzitutto ma poi Andrea Quaratesi è stato uno degli affetti che lo ha coinvolto e che qui esponiamo in una bella copia del suo ritratto Michelangelo non amava ritrarre le persone dunque il fatto che abbia ritratto Andrea Quaratesi rappresenta un omaggio a questa amicizia ma soprattutto le amicizie che lo portano verso Roma sono quelle con Tommaso De Cavalieri un gentiluomo colto e costumato e con Vittoria Colonna la Marchesa di Pescara Vedova personaggio di profondità spirituale di grande carisma che guidò il percorso dell'anima di Michelangelo verso un'aspirazione alla salvezza lettere a Tommaso lettere di Tommaso un sonetto a lui dedicato e molti disegni molti disegni di grande bellezza che si chiamano disegni di dono per la verità usiamo spesso l'espressione inglese presentation drawings disegni finiti disegni che non dovevano diventare una pittura ma che erano già opere d'arte compiute e questo che ha fornito anche alla mostra l'emblema è quello che lui donò a Tommaso dei Cavalieri che ha rivelato negli anni Ottanta grazie al restauro una sorprendente alternativa se nella facciata principale del foglio vediamo una Cleopatra bella regale seducente nel verso del foglio vediamo una Cleopatra sconvolta e urlante già morsa dall'aspide che la velenerà a morte quindi quasi un disegno di monito dalla bellezza alla morte dalla gioia al dolore alla sofferenza estrema sono gli estremi della condizione umana che sempre oscilla tra il bene e il male tra la felicità e l'abisso del dolore e che lui consegna all'amico quasi come un ammonimento morale questo disegno stette con Tommaso dei Cavalieri fino a che non lo richiese con prepotenza il duca Cosimo de' Medici che era succeduto al tiranno Alessandro de' Medici ucciso dal cugino Lorenzaccio e per Tommaso privarsene fu un grande dolore tanto che sappiamo che lo consegnò ma fu come se avesse consegnato un figlio l'altro polo appunto dell'amicizia di Michelangelo è la marchesa Vittoria Colonna poetessa donna di fine come dire anche controversa spiritualità perché sappiamo che si avvicinò al circolo di Reginald Paul e di altri cardinali che bordeggiavano le istanze eretiche della riforma senza mai però uscire dall'ortososia cattolica e risalgono a questo periodo anche studi per progetti che forse non furono mai compiuti e portati a termine debbo sorvolare per ragioni di tempo ma merita davvero di cogliere questa opportunità che la mostra offre di leggere le lettere di Michelangelo di vedere le sue rime scritte di suo pugno con bellissima grafia una bella grafia che mantiene fino agli ultimi anni fino a che poté scrivere di suo pugno dalle idee dai pensieri compositivi di Michelangelo espressi nel disegno immediatamente prendevano vita altre opere di altri autori qui abbiamo un'opera di Anonimo con la Samaritana al Pozzo in mostra vedrete anche una degli esemplari della Pietà disegnata e inventata per Vittoria Colonna prendevano il via derivazioni reinterpretazioni copie interpretative tutta una serie di opere minori destinate a diffondere anche appunto aggiungendo il colore laddove il disegno non lo comprendeva queste invenzioni di Michelangelo che si contendevano i collezionisti dell'epoca portandogli letteralmente via i disegni dallo studio e dalle mani appena era possibile questi ultimi trent'anni appunto nel volontario esilio romano vedono Michelangelo al servizio di tutti i papi succedutisi che abbiamo evocato con ritratti questo di Paolo III Farnese il papa che gli fa dipingere il giudizio universale che gli affida la cappella Paolina che lo mette al lavoro su San Pietro sul Campidoglio in pratica gli fa decidere il polo religioso il polo civile di Roma per lo studio questo studio di inginocchiato sembra finalizzato al giudizio universale che come sappiamo è una grande architettura di corpi di dannati o di salvati con Cristo e la Madonna al centro tra i grandi santi della chiesa cristiana ed è una pagina grandiosa e soverchiante di fronte alla quale si dice che Paolo III si inginocchiasse colto dal terrore reverenziale che questo terribile giudizio gli ispirava ed è però un'opera ormai a rischio a rischio di censura appena Michelangelo muore secondo le istanze della nascente contro riforma la sua pittura sarà moralizzata e sugli ignudi più audaci verranno dipinte delle brache cioè delle coperture a celare le parti intime qui in una replica parziale di Anonimo vedete appunto come non vi sia architettura nel giudizio ma una prospettiva di corpi che diminuiscono nella lontananza e che invece in modo carnale e quasi aggressivo si protendono verso il primo piano una dinamica e fluida concentrazione di dannati e di salvati che si muovono attraverso il cielo e l'inferno spalancato per accogliere i perduti questa incisione testimonia un progetto avviato dal Michelangelo e completato attraverso i secoli addirittura che però nasce attorno all'idea di sistemare tra edifici nobilissimi e al centro di un meraviglioso pavimento geometrico quella statua del Marco Aurelio l'imperatore antico che rappresentava un dono del Papa ai cittadini romani quindi doveva essere esaltato e glorificato nel nome di quella continuità della Roma dei Papi con la Roma degli Imperatori che era la chiave della magnificenza cinquecentesca dell'urbe e poi l'altro grande incarico San Pietro questa fabbrica controversa difficile cominciata con Bramante sotto Giulio II andata avanti con Leonardo X con Raffaello alla guida del cantiere e poi Michelangelo che lo fa per amore di Dio dedicando all'architettura e specialmente a questa grande impresa i suoi ultimi anni di vecchio malato e imposta la cupola riesce a impostare quella cupola certamente ispirata alla cupola del Brunelleschi a Firenze che però la supera in grandezza e magnificenza e che sarà completata dopo la sua morte come l'intera basilica un altro papa importante nella vita di Michelangelo è Giulio III e continuiamo con Paolo IV con Pio IV tutti i papi che a diverso titolo sono stati i suoi committenti ma non c'era soltanto il papa da lontano i medici allungavano i loro tentacoli su Michelangelo o almeno tentavano di farlo con i più diversi motivi e addirittura pretesti Cosimo de' Medici come dicevo succeduto all'assassinato Alessandro tentò in vano a più riprese di farlo tornare a Firenze non ci riuscì ma tentò almeno di farlo lavorare a un'impresa fiorentina la chiesa di San Giovanni dei Fiorentini che i mercanti e banchieri fiorentini intendevano innalzare in quella prestigiosa via Giulia che aveva aperto Giulio II vicino al Tevere ed ecco che Michelangelo non può non accogliere questa richiesta e prepara una serie straordinaria di piante come questa che vedete in mostra dove immagina una chiesa a pianta centrale articolata in poderosi risalti un'architettura che a voler banalizzare addirittura sembra anticipare certi risultati dell'architettura barocca è un'architettura che confina con la scultura per la possente plasticità delle membrature e che rappresenta uno degli sforzi più straordinari di Michelangelo peraltro non coronato dal successo perché la chiesa non fu edificata in quel tempo ma ben più tardi con altro progetto studiò anche il portale di Porta Pia che fu poi realizzato con il suo disegno e infine ebbe come dicevo delle pressioni fino alla più tarda età dai medici perché lavorasse come aveva lavorato per i medici vecchi del 400 anche per le nuove generazioni al potere gli arrivarono richieste addirittura dalla Francia perché Michelangelo era stato in rapporto con Francesco I di Francia che conosceva le sue opere che lo stimava che lo invitò addirittura a raggiungere la corte francese quando vide che si sarebbe per così dire liberato un posto perché Leonardo da Vinci stava declinando nella salute ed era ormai sul punto di morire e sarebbe morto nel 1519 nel 1518 Francesco prima di Valois invitava Michelangelo a raggiungerlo in Francia c'era una scultura di Michelangelo alla corte francese c'era insomma una stima di lui che naturalmente fu ereditata da Caterina De Medici la nuora di Francesco I ma anche la figlia di quel duca Lorenzo che Michelangelo aveva rappresentato su una delle tombe Medici in San Lorenzo dunque Caterina rimasta vedova del marito che è stato ucciso in un torneo da un colpo di lancia il suo amatissimo Enrico II al quale aveva dato dieci figli letteralmente prega Michelangelo di farle un monumento equestre con la figura del marito e sottolineo questo verbo straordinario un regnante come lei che prega Michelangelo un artista anziano di volersi rimettere al servizio della famiglia Michelangelo non lo può fare ma affida al suo protetto Daniele da Volterra la fusione di quel cavallo che sarà complicata e non coronata dal successo che si aspettavano l'altro Medici che gli fa pressione è Cosimo I che nel suo nome nel nome di Michelangelo fonda l'Accademia delle Arti del Disegno nominandolo capo spirituale anche a distanza di tutti gli artisti fiorentini del momento Michelangelo per l'età e anche per quella sottile persistente posizione antimedicia che lo caratterizza declina ogni invito e quindi non torna a Firenze e si rassegna a mandare il modellino della scala che dovrà completare il ricetto della biblioteca medicia laurentiana ma nonostante riceva appunto da Cosimo dei Medici delle lettere personali così lusinghiere non si piegherà al volere del duca fiorentino e resterà a Roma da dove manderà però a Firenze un toccante ultimo suo lavoro si tratta di questo crocifisso per il quale si fa mandare da Firenze gli strumenti è probabile che Michelangelo fin dalla gioventù non abbia più toccato il legno come materia di scultura e si fa mandare da Firenze le sgorbie fatte a modo fatte secondo le sue richieste dagli artigiani fiorentini e con quelle con quegli strumenti lavora un piccolissimo crocifisso in legno che dona anche così non finito a suo nipote amatissimo Leonardo rimasto in famiglia fa ora parte del museo di Casa Bonarroti ed è qui esposto a suggellare la vicenda umana e artistica di Michelangelo famoso in vita la sua biografia viene scritta la prima volta da Giorgio Vasari nel 1550 e intanto si inizia appunto il suo percorso spirituale verso la verso la dipartita che sente ormai imminente al punto da farsi raffigurare in tarda età nella mendaglia di Leone e Leoni nelle sembianze di un pellegrino che a fatica percorre l'accidentato sentiero della vita guidato da un cane appoggiato al suo bastone con la fiasca che lo disseta per via e che simboleggia la sua inesauribile sete di salvezza attraverso il duro cammino del corpo e dell'anima sulla terra alla sua orazione funerale sarà Benedetto Varchi il massimo letterato fiorentino a leggere il discorso questa orazione che poi fu stampata in una San Lorenzo la basilica cara ai medici gremito di folla e decorato con un apparato degno di un sovrano è il primo funerale di stato che si celebra a Firenze dopo i funerali di stato in San Lorenzo spetteranno solamente ai granduchi e ai loro parenti nobili o regnanti quindi ancora una volta siamo nel segno di quella eccezionalità che caratterizza tutto il percorso di Michelangelo dall'adolescenza all'età più avanzata quella eccezionalità che lo fa essere riconosciuto in vita un artista divino e nella morte sarà il suo fedele Daniele da Volterra trarre dalla maschera funeraria l'effigie del suo volto trasformato in un busto di cui esistono molti esemplari questo è il busto di casa Bonarroti che crediamo molto vicino alla maschera funeraria che tramandava i suoi tratti fisionomici l'estremo omaggio dell'allievo Daniele da Volterra al suo maestro un'immagine nota che ha fatto il giro del mondo in tanti esemplari e qui rappresenta il congedo della mostra dai visitatori attraverso le dieci sezioni in cui si articola il lungo percorso biografico attraverso 60 opere di Michelangelo e altre 70 che come un coro di comprimari raccontano questa vita straordinaria bene ringraziamo la curatrice Cristina Cidini per l'esaustività unitamente alla sintesi di questa sua lezione che ci ha consentito di richiamare all'attenzione appunto una figura straordinaria della nostra cultura e dei legami tra la sua figura e la sua attività e quelle che è stata la storia ad ampio spretto del periodo in cui è vissuto del lungo periodo degli 89 anni della sua lunga e straordinaria vita io spero che questa descrizione vi abbia fatto venire voglia di venire a vederla dal vivo la mostra per poter appunto apprezzare soprattutto la parte di disegni di progetti è veramente straordinaria vi do quindi appuntamento qui in mostra come dicevo presenteremo delle proposte di visite guidate e di laboratori online ma ovviamente speriamo spieghiamo a tutti che poi sia voi che i vostri studenti abbiate l'occasione di vedere le opere qui direttamente in mostra per qualsiasi cosa ne siamo naturalmente a disposizione come servizi educativi quindi ci potete scrivere ci potete scrivere all'indirizzo didattica chiocciola palazzoducale.genova.it e cercheremo di venire incontro comunque come sempre al possibile alle vostre alle vostre richieste buon pomeriggio a tutti che ci potete a tutti anche se chiocciola a tutti che ci potete